La mia scuola è speciale. La mia scuola è comunicazione, perché siamo tutti uniti. La mia scuola è innovativa, perché cerca sempre di coinvolgere gli studenti in ogni modo. La mia scuola è formazione. La mia scuola è completa, perché è all'avanguardia, moderna e sempre aperta a nuovi progetti. La mia scuola è scienze. La mia scuola è coinvolgente. La mia scuola è molto tecnologica. La mia scuola è inclusione, perché dà la possibilità a tutti di sentirsi a proprio agio e sentirsi parte di qualcosa. La mia scuola è al passo coi tempi, perché ci consente di utilizzare apparecchiature aggiornate. La mia scuola è opportunità. La mia scuola è molto tecnologica. La mia scuola è molto tecnologica. La mia scuola è molto tecnologica.